Con le euro l'Italia si è ridotta come una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. Considerazione del Nobel per l'economia Paul Krugman che riassume il senso della battaglia del gruppo sempre più numeroso di cittadini che sostiene la Modern Money Theory per guidare il paese fuori dalla catastrofe economica dell'eurozona, recuperare la sovranità monetaria parlamentare, salvare le imprese e l'occupazione. Dopo il partecipato summit di ottobre organizzato da uno dei fondatori della trasmissione Rai Report, Paolo Barnard, l'MMT torna nell'isola con una serie di appuntamenti. Il primo si è tenuto a Cagliari con l'incaricato dell'area economica Daniele Basciu. Gli stati non hanno più il potere di emissione della moneta, gli stati nel sistema euro sono utilizzatori della moneta per cui uno stato che riacquisisce la propria sovranità monetaria, sovranità politica e sovranità fiscale, ha a quel punto la capacità di intervenire per raggiungere il public purpose, cioè la finalità del benessere pubblico. La finalità del benessere pubblico è abbattere la disoccupazione ed è ritornare a sviluppare la capacità produttiva dello Stato per creare benessere per tutti, mentre gli stati oggi che prendono i soldi in prestito creano solamente benessere finanziario per le banche e per i gruppi finanziari che prestano questi soldi.